Ciao ragazzi e ragazze, con questo video voglio celebrare un traguardo che mi è stato comunicato da YouTube qualche giorno fa ma che condivido con voi solo oggi, ho caricato più, sono arrivata a caricare più di 500 video sul mio canale YouTube questo cosa significa? Significa che siccome non ci sono in realtà tutti quelli che ho fatto sin dall'inizio più di 500 giorni di contenuto e sicuramente più di 500 contenuti quindi cosa indica questo? Indica una costanza incredibile come vedete io vi dico sempre che l'unica strategia valida su internet è fare, postare costantemente, continuamente, ogni giorno qualcosa non deve per forza essere video, assolutamente, ma ci vuole costanza, coerenza e anche consistenza in ciò che si fa e si comunica ovviamente a monte ci deve essere il nostro valore che noi comunichiamo agli altri e diamo sul piatto agli altri le nostre competenze perché questo è necessario, ma poi si cancella tutto il resto, si cancella l'idea che dobbiamo postare per forza qualcosa di qualità o non postiamo, perché la qualità non la decidiamo noi si cancella la scusa di non postare per n ragioni soprattutto la qualità e si cancella anche soprattutto la scusa di avere una qualsiasi altra strategia che includa soprattutto il copiare il contenuto degli altri oggi è un bellissimo giorno perché è stato scopiato un contenuto mio che ha fatto più di mezzo milione di visualizzazioni preso quasi pari pari, questo è un indice della mia popolarità e della mia influenza ma non è che questo a me interessi particolarmente a livello di celebrazione, mi ha fatto solo sorridere semplicemente ci sta però ad indicare qual è la metodologia sbagliata e qual è la metodologia giusta ognuno di noi può perseguire questa metodologia giusta se ha sufficiente determinazione e sufficiente voglia di mettersi in piazza senza contare l'opinione degli altri che siate a 1, 2, 10, 500, 1000 non importa continuate a spingere se siete a 0 partite adesso senza scuse stop whining